Ciao ragazzi, benvenuti ad un altro video del trappolone. Oggi volevo parlarvi di un plugin che ho scoperto da pochissimo, che si chiama Perfect Room ed è prodotto da una casa che si chiama Denise. Sono rimasto davvero sconvolto da questo plugin perché penso che sia il riverbero perfetto. Se come me siete molto schizzinosi sui riverberi, per esempio molti riverberi hanno quel problema che sulle alte suonano finti o comunque troppo sibilanti, è chiaro che poi quando andiamo a cercare il riverbero giusto per qualsiasi cosa vogliamo riverberare nel nostro mix, soffriamo parecchio perché comunque ogni riverbero ha sempre quel problema di brillantezza eccessiva, di sibilanza che comunque ci fa un po' storcere la bocca e poi tante volte ci fa anche rinunciare a riverberare la traccia. Ora, leggendo sul sito da Denise Audio, loro dicono proprio che hanno creato una loro tecnologia, quindi immagino il loro algoritmo per rendere il riverbero non diciamo una sorta di delay che cerca di produrre un riverbero, ma un riverbero vero e proprio che ci dà proprio quella colorazione e quel senso di realtà e quindi una musicalità molto migliore rispetto ai riverberi medi che si sentono. Diciamo che io chiaramente quando sono andato a provarlo ero molto scettico, però effettivamente è il primo riverbero che ovunque metto mi suona bene. Oltretutto sul sito dicono anche che insomma il riverbero che suona bene dagli elementi più bassosi agli elementi più alti, più sibilanti e anche questo posso confermarlo. Quindi vorrei farvelo vedere e vorrei provarlo su un po' di cose assieme a voi per farci un parere tutti assieme. Riverbero oltretutto ha molte funzioni che vi farò vedere, ma non è solo un riverbero ma anche qualcosa di più. E vabbè comunque ho fatto anche per oppi chiacchiere, quindi andrei davanti alla schermata della nostra DAV e vi faccio sentire un po' come suona questo riverbero e come funziona. Eccoci davanti alla schermata di Ableton. Vi dico subito che questo è un beat che ho fatto e poi ci abbiamo buttato una voce giusto per provare, per annotarci quello che andava fatto su questo beat, quindi prendetela un po' come un provino. Abbiamo fatto così un SM7 proprio al volo qua in regia. Intanto vi faccio sentire fino a quando parte la voce, così entrate un attimo nell'atmosfera e poi vi spiego il plug-in. Per adesso il plug-in è caricato solo sulla voce oltretutto, però vi faccio sentire dall'inizio giusto per farvi capire un po' in che contesto siamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, quindi avete sentito sulla voce. Vi dico anche che sarà la prima volta in dieci anni di carriera che apro il riverbero, ci perdo tempo tre secondi e già mi suona come volevo. Devo dire che effettivamente non so cosa si sono inventati questi qua, però hanno veramente creato effettivamente un algoritmo che rende il riverbero proprio musicale, quindi che non dobbiamo stare là a smanettare tre ore coi filtri, tagliare alte, tagliare basse. Cioè comunque già il preset di default che danno loro, probabilmente ho giocato un po' sul mix e sulla tail che sarebbe il decay, già mi suona molto bene. Comunque ve lo spiego un attimo anche per dirvi tutte le funzioni extra che ha che sono parecchio interessanti. Allora, di base input e output, quindi volume in ingresso e volume in uscita, questo diciamo parametro che ho ignorato chiaramente nel caso del riverbero, perché comunque il livello che avevo in ingresso mi andava bene, il livello in uscita andava benissimo, quindi penso che questo sia comodo quando volete sovraccaricare il riverbero e magari poi livellare con l'output usandolo come se fosse un trim. Poi mix, chiaramente è la percentuale di suono riverberato che vogliamo tenere, quindi diciamo ci permette di miscelare il suono riverberato col suono non riverberato, quindi come se stessimo lavorando in parallelo, nel caso andasse ad inserire in insert come ho fatto io qui per semplicità. Poi HPF, LPF, high pass filter, low pass filter, quindi filtro sulle basse e filtro sulle alte, ci permette chiaramente di escludere il riverbero dalle basse e dalle alte come riteniamo opportuno. Delay, che sarebbe un pre-delay, quindi il tempo espresso in millisecondi dopo il quale la coda deve partire. Tail, che sarebbe il decay, quindi i millisecondi, la durata della coda, quindi più è alto più il riverbero sarà lungo, più è basso più il riverbero sarà molto basso. E poi width, molto interessante, che sarebbe la larghezza dell'immagine stereo. E qui già entriamo nel merito di una delle funzioni speciali che è questo plugin, ovvero lo split. Allora, quando questo plugin lo mettete su fonti stereo, chiaramente questo funziona normalmente, è chiaramente width che decide quanto appunto deve essere stereofonico il riverbero. Quando lo mettete su una traccia mono, come ho fatto io, visto che questa voce appunto è una traccia mono, potete decidere di attivare questa funzione split. Vedete se è rosa è accesa, se è blu è spenta. Quando la attivate, quindi quando diventa rosa, potete decidere di appunto rendere stereo questa traccia. Quindi da una traccia mono state ricavando una traccia stereo. Vi faccio sentire un po' come cambia man mano che cambio questo parametro. Quindi partiamo da mono e piano piano lo porto a stereo. Se volete vedere anche come cambia il livello di risposta tra left e right, potete vedere il meter della traccia qui. Ve lo pure allargo così capite meglio. Ok, sentiamo. E' buono perché ho già capito. Vediamo che oltre a essere un riverbero è anche uno stereo exciter, perché effettivamente se metto questo a zero la traccia rimane mono, semplicemente riverberata con i parametri che abbiamo scelto. Man mano che aumento questo la differenza tra left e right aumenta e quindi la traccia diventa sempre più stereofonica. Probabilmente creerà qualcosa che rende un po' ritardati i riverberi tra left e right e quindi crea questa immagine stereo. Non so di preciso come fa, però l'effetto è molto interessante. Insomma, quindi questi sono i parametri base che dovete sapere. Altro parametro bellissimo è flip che permette di girare la coda di riverbero, quindi diventa una sorta di riverbero in reverse. Ve lo faccio sentire con flip attivato. Vedete, diventa un effetto creativo spettacolare. Oltretutto chiaramente questo effetto cambiando la tail, quindi il decay cambia tantissimo il modo in cui risponde, perché chiaramente se abbassiamo il decay sarà molto più vicino il senso di reverse. Ti faccio sentire con un decay cortissimo come suona. Quindi fa una cosa veramente figa, cioè che poi in realtà non sembra proprio un reverse, perché sembra come se facesse partire la coda dal contrario, però a un certo punto la riaddrizza. Quindi alle mie orecchie non suona come un reverse, perché effettivamente le parole si sentono uguali, però fa quella cosa un po' estraniante, come se fosse un reverse che piano piano torna dritto. Comunque molto bello. Probabilmente è come se specchia la coda in qualche modo, ribaltandola e poi piano piano facendola tornare dritta. Comunque mi piace tantissimo anche questa cosa. Per ora lo disattivo. Altre cose molto belle è che possiamo cambiare l'algoritmo di riverberazione. Quindi questo era quello natural, che effettivamente è quello che vale tutto il plug-in, secondo me, che fa suonare tutto molto musicale e quindi che ci fa percepire il riverbero come un riverbero veramente naturale. Però ci sono anche due algoritmi un po' più particolari. Per esempio sentiamo Triangle. Per esempio sentiamo un po' più particolari. Vi faccio risentire natural per capire un attimo la differenza. Vedete, di base Triangle e Square sono due riverberi un po' più strani. Più o meno sembrano quello che fa pure la funzione flip, quindi creano una legge temporale strana che ci fa percepire il riverbero come più innaturale. Ma comunque è molto musicale, però è buono per un effetto creativo, ma di sicuro a me quello che interessa è natural. Poi qui abbiamo anche un'equalizzazione del riverbero, quindi una curva di equalizzazione, quindi flat è chiaramente normale. Poi c'è Bright, Bright XL, Dark e Dark XL. Quindi diciamo a seconda se lo vogliamo più chiaro e più scuro, per esempio vi faccio sentire Bright XL come cambia. Vedete, aggiunge un sacco di sibilanza, quindi diciamo che è una cosa che mi interessa fino a un certo punto. Dark XL è l'estremo opposto. Vedete, andando verso Dark mi piace perché aggiunge questa risonanza sulle basse, che comunque gli dà un effetto un po' più tetro, no? E comunque, certo, chiaramente in questo caso andrebbe usato con la giusta misura, però è un suono che mi suona abbastanza bene. Il Bright non mi fa proprio impazzire, però comunque, ripeto, questo per me, come ho già detto, il riverbero che funziona bene in natural e flat, perché suona proprio già bene di suo musicale, non gli manca niente, non aggiunge tutta quella sibilanza, quindi questo è il settaggio che a me piace tantissimo. Poi, non contenti, hanno anche pensato di metterci un effetto shimmer, un effetto detune e un effetto dagger. Allora, lo shimmer è molto interessante, di base ci permette di aggiungere la riverberazione che già abbiamo, anche una riverberazione su, diciamo, la traccia abbassata di un'ottava, più la riverberazione sulla traccia alzata di un'ottava, e poterle miscelare come vogliamo, quindi sia in alto sia in basso, oltretutto poter miscelare lo shimmer con il riverbero normale. Vi faccio sentire. Quindi, vedete, cioè, con questo shimmer, oltre a poter miscelare lui, con il riverbero che abbiamo già acceso, quindi un riverbero standard, ci permette anche, appunto, di decidere lo shimmer stesso come devono essere miscelati ottava originale, ottava bassa e ottava alta, quindi molto interessante. Poi, ovviamente, anche questo si può accendere e spegnere così. Quindi, in questo caso, è spento. Detune, anche questo effetto molto bello e particolare, ve lo faccio sentire. Insomma, fa quella cosa un po' tipo LFO, ci fa oscillare la frequenza del riverbero, che faccio sembra un po' stonato. Non mi fa impazzire come suona, però sicuramente può aiutare in determinati casi. Per fare queste cose preferisco Lexicon, onestamente, però vabbè. Devo anche dire che non ci ho perso tutto questo tempo per poterlo giudicare. Poi c'è un'altra funzione, sempre molto interessante, che è il ducker, che di base è una specie di gate sul riverbero, ovvero sopprime il riverbero con una certa legge che decidiamo noi quando va sotto una certa soglia. Vi faccio sentire. Quindi vedete, di base, se aprite la soglia, tutta quanta, non fa niente, man mano che abbassate, comincia a sopprimere il riverbero. E anche questo può essere utile magari per fare una funzione un po' tipo Gated Reverb, insomma, quegli effetti anni 80 che avete il riverbero che si sente per una parte e poi viene mutato, quindi a tutto in uno. Queste sono tutte le funzioni che ha. Poi ci sono diversi preset che non ho provato perché è talmente facile settarlo che ho raggiunto subito quello che volevo, però adesso lo proverei anche su altri elementi di questo beat per farvi sentire un po' come suona anche su altre cose. Per esempio, proviamolo sul rullante. Niente da dire. Diciamo che ricorda molto un plate mischiato con una room. Bene o male, anche sul rullo mi sembra che abbia una bella resa. Proviamo a metterlo su tutta la batteria visto che dicono che anche sulle basse rende molto bene. Vediamo su tutta la batteria inclusa la cassa come suona. Devo dire che vedete col decay basso simula molto bene una room molto molto figo. anche qui devo dire che mi convince cioè ripeto lo sto aprendo al volo così e comunque mi piace poi va a capire se sarà anche un po' l'hype della novità però per tornarmi sulla voce in modo così veloce sicuramente è qualcosa di speciale. Sentiamolo pure sul basso. In genere sul basso mi piace usare un effetto un po' spring. Proviamo a emulare un effetto un po' spring sul basso. basso. Devo dire sul basso non mi fa l'effetto della spring cioè vi voglio far sentire che io in genere su questo come su questo ce l'avevo messo un po' di spring adesso l'avevo tolto per finire il video però voglio far sentire come mi piace a me lo spring sul basso in genere uso questo qua di guitar rig quindi in questo caso mi piace di più questo effetto anche con un po' meno time però è chiaro non è un riverbero che vuole emulare il suono spring però ripeto sulla voce mi piace tantissimo sulla batteria diciamo che non mi dispiace per niente proviamolo anche un po' su questa chitarra che arriva dopo che è già parecchio riverberata tra parentesi a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.